Musica Ben trovati con il TG List di Telebari. Sta meglio il bimbo di 4 mesi ricoverato dal lunedì nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico di Bari dopo essere finito in coma etilico per aver bevuto del vino con cui per errore sua nonna aveva preparato il latte in polvere. Secondo le informazioni fornite dall'ospedale il piccolo è stato estubato e nelle prossime ore potrà essere trasferito in un reparto diverso dalla rianimazione. Lunedì scorso a Francavilla Fontana è accaduto l'episodio. La nonna tratta in errore dal colore scuro della bottiglia aveva utilizzato vino bianco al posto dell'acqua per diluire il latte. Secondo quanto accertato dai carabinieri si sarebbe trattato di un incidente domestico accidentale. L'ex segretaria della funzione pubblica della CGL Puglia Antonella Morga e attuale coordinatrice dell'osservatorio regionale sui neofascismi ha deciso di lasciare il Partito Democratico di Bari. Tra i motivi della rottura anche la decisione di sostenere Michele Laforgia, candidato sindaco di Bari, di Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle e Convenzione. Il PD sostiene invece Vito Leccese. E adesso le altre notizie del TGLIS. Un giovane surfista in difficoltà è stato salvato dalla guardia costiera a Bari. I soccorsi sono scattati nel primo pomeriggio quando la sala operativa ha ricevuto tramite il numero di emergenza 112 la chiamata di un cittadino che segnalava un ragazzo in difficoltà nelle acque antistanti Torre a Mare. Il 14enne che era uscito a bordo di una tavola Stand Hepp Paddle a causa di un forte vento in zona non riusciva a fare rientro. Il team di medici senza frontiere a bordo della Geo Barenz ha soccorso nel Mediterraneo centrale 52 persone che viaggiavano su una imbarcazione di legno. A bordo c'è anche una dozzina di minorenni non accompagnati. Alla Geo Barenz è stato assegnato il porto di Bari. Lo rende noto la stessa organizzazione. Matteo Salvini sarà il prossimo 13 maggio a Bari per sostenere la candidatura di Fabio Romito a sindaco del capoluogo pugliese. Lo ha annunciato lo stesso leader della Lega attraverso i social. Salvini sarà accompagnato dal candidato alle europee Roberto Vannacci. Il 13 maggio, scrive il ministro delle infrastrutture, sarò a Bari e ci sarà l'esordio dell'accoppiata Salvini-Vannacci insieme al candidato sindaco Romito che è interista ma è molto bravo. All'indomani dell'ennesima aggressione a danno di due infermieri del pronto soccorso il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato e il senatore Filippo Melchiorre si sono recati all'ospedale di Venere per portare solidarietà e vicinanza del governo agli operatori sanitari impegnati anche il primo maggio, giorno della festa dei lavoratori. Siamo qui al di Venere, ha affermato Gemmato, non solo per dimostrare la nostra vicinanza a tutti gli operatori sanitari che non conoscono festività sul calendario ma soprattutto ai due infermieri vittime dell'ennesima brutale aggressione. Si è svolta mercoledì mattina in occasione della ricorrenza del primo maggio al teatro Petruzzelli di Bari la cerimonia di consegna della decorazione della stella al merito del lavoro per lavoratori che si sono distinti per singolari meriti nel corso della loro carriera 26 i premiati originari della provincia di Bari Lo sport, il Bari è riuscito a fermare sull'uno a uno la capolista Parma che nonostante il pareggio ha festeggiato la ritmetica promozione in Serie A I biancorossi invece hanno conquistato un punticino che permette loro di sperare in ottica play out la prossima partita fuori casa domenica 5 maggio, Cittadella, Bari E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione Coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti abusivismo commerciale ed edilizio riciclaggio di autovetture rubate e una pistola e quanto scoperto in un'operazione interforze messa a segno nel campo Panareo a Lecce dove risiedono nuclei familiari di origine slava all'operazione pianificata nel tavolo tecnico in questura oltre alle forze dell'ordine erano presenti anche vigili del fuoco, polizia locale e servizi sociali Sono state sottoposte a controllo 30 auto, due sono state sottoposte a fermo identificate 35 persone, due delle quali già sottoposti a misure restrittive in un'abitazione sequestrata anche una pistola modello Beretta e sequestrati anche tre chili di marijuana un chilo di hashish e qualche grammo di cocaina Un incendio divampato nella tarda serata di ieri a Fasano in provincia di Brindisi nell'area parcheggio di una azienda, la Lepore Mare in viale della agricoltura Sette furgoni frigo sono stati distrutti dalle fiamme Per diverse ore sul posto hanno lavorato quattro squadre di vigili del fuoco I carabinieri hanno avviato le indagini e i militari hanno anche acquisito le telecamere di videosorveglianza della zona E con il TGLIS è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento Grazie per aver guardato il video